Presidente, parte la campagna abbonamenti del Gela Calcio, una nuova stagione in Serie D, una stagione importante, avete parlato di tre anni di poter raggiungere la Lega Pro. Sì, è un progetto sportivo che ci sentiamo di lanciare per il nostro pubblico, per dare un riferimento preciso. Noi quando abbiamo iniziato con l'ultimo progetto di tre anni, due anni fa, abbiamo detto che in tre anni volevamo la Serie D. Abbiamo vinto due campionati, anzi tre, di seguito e abbiamo anticipato di un anno. Quest'anno ci sentiamo di dire che in tre anni vogliamo raggiungere la Lega Pro e credo che ci dobbiamo organizzare tutti. Uno degli aspetti che più ci sta a cuore è il legame col pubblico, con i tifosi, con gli spettatori, che devono dare un segnale forte alla società. Inutile negarlo. La presenza del pubblico, la loro decisione di comprare l'abbonamento, sarà la misura della forza del nostro progetto. Presidente, il Gela parte con una nuova campagna abbonamenti, prezzi abbordabili. La città deve essere vicina a questa società. Sicuramente noi ci auguriamo che la città capisca che una squadra di calcio non è semplicemente il passatempo della domenica, ma può essere anche un veicolo per una maggiore diffusione nel territorio dell'esistenza della città di Gela, intesa nella sua globalità. Lo siamo stati nel passato, il progetto di quest'anno è di ritornare ad essere il veicolo anche di conoscenze e di comunicabilità nei confronti dell'esterno di ciò che oggi anche la realtà gelese può essere nel mondo del calcio. Noi ci auguriamo che la gente risponda, sapendo che da parte nostra ci si farà il massimo per poter dare quelle soddisfazioni che la gente merita. Assessore, innanzitutto partiamo da un dato. I primi abbonamenti saranno quelli dell'assessore e quelli del sindaco Domenico Messinese. Poi il resto, l'amministrazione sarà vicina a questa società. Ovviamente come esempio nei confronti di tutta la collettività, i primi che faremo l'abbonamento saremo noi componenti dell'aggiunta e poi faremo tutto quello che è impossibile per poter dare delle infrastrutture al gelacalcio e un aiuto al gelacalcio per poter portare avanti il nome della nostra città nelle varie piazze in cui sarà coinvolta in questo campionato di Serie D.